Avete presente la parola miracolo? Questo è veramente un miracolo per ciò che abbiamo visto, davvero, perché vedere quest'Italia oggi è stato bello Perché a partire dal fatto che non me ne vogliono i francesi ma fare tre gol in casa della Francia, l'Italia non batteva la Francia in casa loro da 70 anni una godura Battere i francesi è sempre bellissimo, sempre bellissimo, avranno la maledizione dell'Italia, spiazze però E' però così, vittoria strameritata, l'Italia batte per 3-1 la Francia, mi scuso per il ritardo del video, mi scuso se in questi giorni sono usciti pochi video Ma oggi ho avuto tutta la giornata piena, ho avuto tra uscite, robe varie, ho avuto tutta la giornata piena praticamente E mentre ieri invece non ho registrato niente in realtà perché non avevo grandi cose da fare ma sinceramente non avevo nulla di cui parlare Domani senza altro usciranno più video e poi tra l'altro ieri ho fatto un salto sul canale di Gerardo 1996 per una sua live E come avete visto anche dalla post community Quindi sono andato in live, è stata una live molto divertente quindi vi invito assolutamente a recuperarla sul canale di Gerardo Detto ciò, oggi, oggi giocava Francia-Italia una partita che onestamente mi fregava giusto Una partita di cui non mi fregava assolutamente niente L'ho vista solamente perché io vedo l'Italia Perché l'Italia comunque io la vedo nonostante tutto Nonostante tutto perché forse questo è il periodo in cui in assoluto di più sono un po' più staccato dalla nazionale Questa è una cosa che mi dispiace perché io fino a un po' di anni fa ero molto attaccato Ora con l'ultimo europeo, con l'esclusione dal mondiale Il mio rapporto con la nazionale è anche molto cambiato Ora l'Italia la vedo Però non la vedo come la vedo prima in poche parole Questa partita l'ho guardata molto a pezzettoni quindi non vi farò un'analisi completa Però se avete visto un minimo di partita, soprattutto nel secondo tempo Potete testimoniare come l'Italia abbia assolutamente meritato i tre punti C'è poco da dire La Francia mi ha deluso La Francia mi ha deluso perché a parte la partenza nei primi 15 minuti Trasciando il gol subito all'Italia ma quella è un'altra storia La Francia poi non ha più giocato La Francia a squadra dei grandi campioni Oggi aveva Griezmann Aveva in panchina Marcus Turam che è veramente forte Aveva Kanté Fofana a centrocampo Aveva Barcolà che è uno dei migliori secondo me giocatori sulla fascia in questo momento Per dribbling sicuramente Mignan in porta Saliba in difesa che è stato uno dei migliori centrali dell'europeo La Francia tiene Pavardi in panchina Onestamente non lo capisco perché a me un panicano non piace Non capisco perché non sia stato schierato Non va appena davanti La Francia è una squadra fortissima E per il bagaglio tecnico onestamente non capisco perché non riescano a fare strada Gli europei si sono arrivati in semifinale Non si parla di fallimento perché sei arrivato in semifinale Si hai perso quella Spagna ma contro quella Spagna lì Onestamente non so quante squadre sarebbero riuscite a batterla Però la Francia può fare molto di più Onestamente vedo Deschamps a fine ciclo Onestamente io cambio allenatore perché hanno una generazione di talenti d'oro Posso potenzialmente vincere i prossimi due mondiali Perché sono la squadra più forte e più completa Ma un allenatore che complessivamente a me è sempre piaciuto Deschamps Deschamps a me è sempre piaciuto Mi piacerebbe vederlo su una panchina di un'altra squadra Però in questi ultimi anni mi sembra calato Mi sembra involuto tanto onestamente come allenatore E oggi abbiamo visto la Francia Abbiamo visto una Francia che non ha dimostrato alcun gioco Non ha dimostrato alcun gioco L'Italia vince per 3-1 Un risultato assolutamente inaspettato Io mi aspettavo una goleata dalla Francia Onestamente attendevo questa partita Non avevo aspettative positive Anche perché la formazione iniziale non mi convinceva per niente Però Spalletti ha avuto ragione Quindi tanto merita lui Ha avuto sicuramente ragione Perché per esempio Tonari Che nel 2024 avrà fatto tipo 2-3 partite sì e no Oggi è stato forse il migliore in campo insieme ad Andrea Cambiaso Che ancora una volta dimostra di fare un altro sport E avere un giocatore sottovalutato per tutto ciò che fa in campo A mio parere Per tutto ciò che fa in campo Io di Lorenzo continuo sinceramente in nazionale a non capirlo Davvero al gol subito Al gol subito Al gol subito dell'Italia E chiaramente al conseguente gol della Francia Io ho detto Ma questo ci sta Questo veramente sta a giocare a pallone Perché Io francamente continuo a non capire Io non so che il problema abbia di Lorenzo in nazionale in questo ultimo anno Perché a Napoli quest'anno sta facendo bene Ma in nazionale raga E' da tempo che sta facendo malissimo Perché t'avano un avversario tosto come Parcolato Ok Però questo non giustifica Lorenzo è davvero uno dei terzini peggiori già all'europeo Ma anche oggi in peggiori in campo a mani basse Subiamo il gol dopo 14 secondi Donna Roma non aveva manchi guanti allacciati 14 secondi E quando subisci il gol dopo 14 secondi Partendo dal fatto che non dovrebbe capitare Però vabbè succede Però è la seconda volta che succede Quindi questo è un problema chiaramente mentale E forse anche qua a spalletta della responsabilità Perché Probabilmente questa cosa con degli altri allenatori Non sarebbe successa Però vabbè Di Lorenzo si addormenta su un retropassaggio di Cambiaso Barcolani approfitta E batte chiaramente l'incolpevole Donna Roma Che non poteva chiaramente niente Però vabbè Go subito dopo 14 secondi Io riso perché davvero Certi gol non sono ammissibili a volte A volte non sono ammissibili Però vabbè siamo sotto Dopo il 1-0 La Francia comunque continua a creare qualcosina Donna Roma Qualche parata l'ha dovuta compiere Su un barco là Su un bappè eccetera eccetera L'Italia secondo me Dove i primi 12-15 minuti brutti Viene un po' fuori Inizia a palleggiare Inizia a portare anche i propri uomini Verso la metà campo avversaria E partendo dal fatto che va vicinissimo Al gol dell'1-1 Con Davide Frattesi Che colpisce in pieno la traversa E poi Retechi da due passi Non riesce a mandare la palla in porta Su una bella azione Tra l'altro Dalla destra verso la sinistra Però dopo Ho sperato l'1-1 L'Italia lo trova Effettivamente Lo trova con Di Marco Un'azione spettacolare Forse la prima vera azione Degna di nota Di questo Tra virgolette Nuovo corso Di spalletti Da questa parte Un'azione veramente bella Da guardare Perché L'azione parte da destra Con Cambiaso Che cambia il gioco E tra l'altro Oggi i cambi di gioco Sono stati chiavi In questa partita Detto ciò Cambio di Cambiaso Verso la sinistra Di Marco Scambia con Tonali Che a sua volta Gli restituisce il pallone Tacco tra l'altro Di Tonali Stupendo Di Marco Poi calcia il volo Di colloquiene Tra figge Mignan Che non può assolutamente nulla Quindi l'Italia Trova Trova l'1-1 E a fine primo tempo Il risultato Non cambia E appunto Si rimane sull'1-1 Un risultato Che nel primo tempo Ci poteva stare Nel secondo tempo La Francia è entrata Molto male in campo L'Italia inizia A creare Anche già Al 47esimo Con qualche tiro Per esempio Di Raspadori Centrale Parato da Mignan Raspadori tra l'altro È entrato molto bene Nella ripresa È stato forse Uno dei cambi più importanti Se non Il cambi più importante Tra l'altro Un cambio che voglio sottolineare È l'ingresso appunto Di Destiny Udoge Che a parte aver fatto L'assist per il gol Di Raspadori Mi è piaciuto veramente tanto Molto coraggioso Molto propositivo Detto ciò Nel secondo tempo L'Italia trova Il meritato 1-2 Lo trova con Davide Frattesi Che è partito male Ma poi Ha assolutamente Ha assolutamente Giocato meglio Con i passati minuti Lo trova appunto Con Frattesi Su un'azione Di contropiede Con un passaggio Sbagliato di Fofanà Non mi sono piaciuti Sinceramente Cantè Fofanà Ma non è brillato la Francia Non è brillato E per la rosa che andano Dovrebbero fare di più Però vabbè Il gol Arriva su contropiede Con un assist anche Di Matteo Reteghi E poi vabbè Dopo un paio di minuti Arriva anche il 3-1 Il gol dell'1-3 Anche lì Azione Partita dalla destra Con Cambiaso Che ancora una volta Cambia il gioco Cambiaso davvero Da 7 e mezzo 8 in Bagella Stasera E poi vabbè L'azione si sviluppa Sì dalla destra Ma poi si conclude Verso il centro dell'azione Con Raspadori Che è molto furbo A sfruttare forse non L'impeccabile prestazione Di Saliba Che forse ha pasticciato Un po' in quella situazione Ne approfitte Quindi segna Un gol Che chiude Chiaramente la partita Per la Francia L'unica occasione Che ricordo Nella seconda frazione E il tiro a giro Di Griezmann Ha finito fuori di nulla Però Francia Veramente deludente Invece l'Italia Stupito Penso un po' tutti Fatemi sapere un po' Oggi abbiamo visto Una difesa 3 Spalletti ha detto Che nell'ultimo europeo Non era probabilmente Non era probabilmente pronto Nell'ultimo europeo Era un po' troppo pressante Ed effettivamente era così Ora però Spalletti ha cambiato Probabilmente approccio Vedremo un'Italia Costantemente con la difesa 3 E meno male Perché l'Italia Ha un gioco Che si deve sviluppare Tramite la difesa 3 Oggi i tre centrali Erano Caliafiori Era un Caliafiori Di Lorenzo E anche l'altro centrale Ora non mi sfugge il nome Scusatemi Però Non mi viene in mente Ma basta che andate A vedere le formazioni E lo vedete Noi ci vediamo domani Senz'altro con altri video